Ciao a tutti e bentornati sul mio canale youtube quest'oggi vi farò vedere le varie parti di un drone da FPV quindi vi spiegherò il loro funzionamento e vi dirò anche le varie parti che io utilizzo per il mio drone da FPV come curiosa parliamo della cam da FPV la cam da FPV è quella che ci permette di vedere attraverso il visore questa può essere collegata alla VTZ o se no all'FC è indifferente, cambia solo il collegamento alla fine quindi già che ci sono qua parlo anche della VTZ la VTZ o anche detta videotrasmettitore è una scheda che ci permette di ricevere il segnale dalla cam e mandarlo direttamente agli occhiali attraverso l'antenna della VTZ poi un'altra parte importantissima è la ricevente la ricevente è quella che prende il segnale dal radiocomando e quindi tutti i movimenti che noi facciamo con gli stick le varie modalità che noi impostiamo sulla radio eccetera poi le schede principali che ci sono in un drone da FPV sono l'ESC e l'FC queste possono essere vendute individualmente o anche insieme quando vengono venute insieme viene chiamato stack io all'inizio utilizzavo uno stack poi adesso ho avuto dei problemi con il vecchio FC e quindi ho dovuto cambiare l'FC comunque l'FC possiamo dire che è il cervello del drone quindi è quello che permette al drone di stabilizzarsi di cambiare le modalità e di fare praticamente tutte le cose e poi ci sono gli ESC invece che ci sono diciamo è l'alimentazione del drone in quanto con il cavo della batteria ci permette di alimentare il drone questi gli ESC sono attaccati con i motori vengono attaccati agli ESC i motori sono molto importanti anche questi questi motori per l'FPV sono motori brushless questi sono più potenti di quelli non brushless quelli senza spazzole anche detti proprio per questo vengono utilizzati nell'FPV i motori, le eliche e la batteria non vanno presi a caso casualmente ma vanno presi secondo degli ordini del tipo se prendiamo dei motori 2400KV dovremmo prendere una batteria 4S in quanto i KV sarebbero troppo alti per una batteria 6S per una 6S potremmo utilizzare dei motori con un KV di 1800-1900 così via per tutte le varie categorie di batterie però questo vi consiglio di informarvi vedere dei video vari su gente che utilizza dei motori con delle determinate batterie non so 3S, 5S eccetera e poi fare il vostro modello l'unica cosa che cambia dall'utilizzo della batteria è la tempistica del volo cioè se utilizzate una batteria 6S molto probabilmente durerà meno di una 4S in quanto la 4S secondo me è l'equilibrio migliore della batteria nel senso che con una 4S tu hai sia una buona durata di volo sia molta potenza con la 6S secondo il mio punto di vista servono solo per il racing in quanto ti danno moltissima potenza ma la durata della batteria è relativamente poca poi dipende ovviamente dal volo che voi fate un'altra parte importante sono le fascette le fascette sono quelle che vi salvano la batteria diciamo perché sono quelle che tengono la batteria fissa sul telaio queste quindi vi consiglio di prenderne un paio buone cioè non prenderne di quelle da 5 euro non so perché rischiate che si rompono si strappino e rischiate quindi di perdere la batteria e se non avete un biper autoalimentato anche di perdere il drone il biper autoalimentato è molto importante in quanto se fate un crash in un campo in cui c'è un'erba molto alta con questo e vi si stacca la batteria dal drone grazie a questo riuscite a ritrovarlo perché emette un bip molto potente che si sente in tutto il campo un'altra cosa molto utilizzata da quelli che fanno SPV è una Hatch On Cam nel mio caso uso una GoPro Hero Session 4 quindi queste due qua sono le antenne della ricevente quindi che prende il segnale dalla radio e questa invece è l'antenna della VTX che prende il segnale dagli occhiali cioè che prende il segnale dalla cam e le invia agli occhiali poi sul vostro drone da SPV vi consiglio di mettere dei bumper sotto i bracci questi vi permettono di salvarvi il telaio cioè di non rovinarlo in quanto se dovete atterrare in qualche posto voi avete i bumper che vi proteggono il telaio da eventuali urti, graffi, eccetera un'altra cosa che vi consiglio sono le protezioni per le braccia protezioni per i motori sono molto importanti vi salvano il motore quindi non rischiate di avere dei urti sul motore un'altra protezione da utilizzare è la protezione per il davanti del telaio che quindi ti protegge la cam e da eventuali urti adesso vi faccio vedere le varie componentistiche che io utilizzo allora per la VTX io uso una Trump HV questa è utilizzata principalmente nel racing in quanto è molto leggera e ha delle buone prestazioni ha un buon segnale video questa ha una cosa molto interessante si sta scaldando la VTX la VTX lo riconosce che si sta scaldando troppo quindi abbassa la potenza in modo che si scalda meno e non rischiate di bruciare la VTX questa è un'auto salvataggio che ha questa VTX e per quello ve la consiglio in quanto è una delle migliori sul mercato in questo momento poi io di FFC prima utilizzavo una Mamba F7 utilizzavo lo stack in realtà del Mamba F7 l'ESC ce l'ho ancora montato sul telaio e invece l'FC l'ho cambiata perché quella lì non mi funziona più e ho preso una F4 da F7 F4 non cambia assolutamente niente a meno che state facendo racing e quindi avete bisogno di maggiore potenza della FC e quindi potrebbe servirvi però vi assicuro se guidate in 4S come me non avrete mai problemi e non noterete differenze tra F4 o F7 poi io di cam da SPV uso una Runcam Swift V2 ha delle buone caratteristiche al suo interno e il segnale video secondo il mio punto di vista è molto soddisfacente come eliche invece uso delle T-Motor queste sono le ho provate da poco mi sta trovando molto bene non sono molto reattive come eliche in quanto sono molto morbide però comunque comunque ti permettono di fare delle buonissime riprese e di fare anche del buon freestyle con queste di motori uso dei motori aiuto dei Flywoo Nin 2306.5 costicchiano un pochettino cioè costano intorno ai 20 euro però sono molto buoni di fascette le fascette invece le ho prese direttamente sul sito di costruzione droni queste sono in Kevlar quindi sono molto resistenti e sono anche belle esteticamente quindi queste qua io ve le consiglio poi la ricevente la ricevente dipende dal vostro radiocomando cioè se avete un radiocomando multiprotocollo non avete problemi di ricevente se invece avete un radiocomando non so FR Sky Fly Sky o altre marche dovete prendere la ricevente del vostro radiocomando nel mio caso uso un radiocomando multiprotocollo e come ricevente utilizzo una Fly Sky non è delle migliori riceventi però io non ho mai avuto problemi con questa ho volato anche in posti relativamente in cui il drone era relativamente in pericolo cioè poteva cadere potevo perderlo e non recuperarlo e non mi ha mai dato problemi di face eccetera questa è la ricevente che tira 500 metri mi sembra però secondo il punto di vista ne tira anche di più ne può tirare anche di più di antenna per la VTX uso una Speedy B questa l'ho presa in quanto era una delle prime che ho utilizzato mi sono sempre trovato bene e non mi ha mai dato neanche questa grossi problemi secondo me però c'è di meglio quindi informatevi vi consiglio di informarevi un po' meglio sulle antenne questo qua è un condensatore i condensatori in base alla loro potenza vi permettono di liberare meglio il segnale questo però vi consiglio di farvi consigliare i condensatori dai professionisti o se no in alcuni casi i condensatori arrivano direttamente insieme allo stack nel caso che prendete uno stack adesso vi faccio vedere il mio radiocomando e il mio visore per l'FPV allora il mio radiocomando l'avete già visto probabilmente sul mio canale è una la radio master TITZ 16S nuova quindi vi consiglio se vi interessa sapere a riguardo cosa ne penso eccetera vi consiglio di vedere il mio video che ho fatto di recente e invece di occhiali io utilizzo degli Skyzone 02 secondo me questi Skyzone sono i migliori sul mercato come qualità prezzo io ho degli amici che vi volano con con i Fatshark HDO e provandoli ho visto che la differenza tra questi e gli HDO è davvero pochissima anzi forse il segnale dei Skyzone è anche meglio secondo il mio punto di vista per questo video è tutto quindi vi aspetto in un prossimo video e se vi è piaciuto lasciate like e iscrivetevi al mio canale YouTube alla prossima